Escalation di contagi, anche la Don Gnocchi di Sant'Angelo dei Lombardi, dove si registrano 40 positivi tra pazienti ed operatori. La conferma ufficiale dei casi certifica l'isolamento dei 24 pazienti e la collocazione presso il proprio domicilio dei 16 operatori risultati contagiati. Tutti i pazienti risultati positivi sono asintomatici o paucisintomatici. La Fondazione, in una nota, sottolinea la continua attività di screening epidemiologico all'interno della struttura di Sant'Angelo dei Lombardi, allocata presso l'ospedale Criscuoli. Presso il polo specialistico e riabilitativo della Fondazione Don Gnocchi, in seguito alla rilevazione di casi di positività, grazie al monitoraggio continuo, sono stati sottoposti a screening mediante tampone nasofaringeo tutti i pazienti e gli operatori della struttura, fa sapere la Fondazione. Tali controlli sono stati estesi ben oltre quanto previsto dai protocolli e le autorità sanitarie, al fine di individuare tempestivamente eventuali casi asintomatici. Attualmente la struttura ospita 24 pazienti positivi al Covid-19. Come comunicato anche alle famiglie, tutti sono asintomatici o manifestano sintomi molto lievi, sono in isolamento e ricevono dagli operatori l'assistenza necessaria. Inoltre, si legge nella nota, sono state individuate altre 16 positività negli operatori che sono attualmente sottoposti a quarantena presso il proprio domicilio. Anche fra gli stessi i casi di positività sono asintomatici o paucisintomagici. Lo screening, conclude la nota, ha riguardato i quattro reparti del polo riabilitativo, dall'ortopedia alla neurologia, dal codice 75 alla cardiologia.